Grazie a tutti. È stato un piacere. È un piacere davvero. Allora, ecco, cominciamo, insomma, partiamo sicuramente dalla Physioclinic, questo gruppo, questa realtà di Roma. Quando è nata? Allora, lo studio è nato nel 2010, però c'è stato un cambiamento a febbraio del 2020 che ho gestito io. Quindi hanno lasciato le redini in mano a me e, diciamo, nel periodo più difficile, perché nessuno si aspettava una pandemia del genere, però siamo stati bravi perché eravamo molto impreparati e alla fine possiamo dire che oggi sappiamo come affrontarlo. Quindi, diciamo che è nato Physioclinic nel 2020 e però ha preso in gestione uno studio che era già in essere, quindi dal 2010, e ha gestito, diciamo, i pazienti, la pandemia e tutto quello che è stato il lockdown in maniera abbastanza egregia. Quindi siamo contenti, si è formato un bel gruppo e quindi mi piacerebbe anche parlare di questo. Assolutamente, ecco, parliamo appunto delle figure professionali che compongono la Physioclinic. Sì, allora, io sono principalmente l'amministratore, però sono anche un terapista manuale che fa sia tecniche osteopatiche che riabilitazione. Poi abbiamo comunque Angelica Ponce che invece è un'ottima terapista argentina, perché noi siamo un gruppo anche internazionale, perché lei viene dall'Argentina, ha 20 anni di esperienza e fa principalmente l'infodrenaggio e massaggio gestaltico. Quindi lei è comunque una terapista che tratta pazienti anche dal punto di vista psicofisico, molto brava. Poi abbiamo Giulia De Pilla che invece è una posturologa e anche fa Pilates, quindi segue i pazienti nel percorso successivo alla riabilitazione. Poi abbiamo la biologa nutrizionista Eleonora Luzzi e ci facciamo aiutare spesso da Simone Mieli, da Lucrezia De Cesare e Edoardo Natuzzi. Insomma è un gruppo che si sta abbastanza amalgamando. Amalgamando, sì, sì, sì. Ci facciamo aiutare molto spesso da figure mediche, quindi quando abbiamo bisogno di consulti medici come fisiatri o ortopedici, molto spesso vengono a studio e ci aiutano nella completezza della terapia, perché molto spesso abbiamo bisogno di consulenze. Certo. Non è sempre facile. La medicina non è matematica, non è uno più uno uguale due, insomma. Quindi è bene sempre avere un approccio multidisciplinare verso il paziente. Chiaro. Beh, poi quando si parla di fisioterapia non si parla solo di, chiaramente, figure professionali legati al corpo, ma chiaramente, come hai detto tu, anche alla nutrizione, perché influisce tantissimo. L'aspetto psicofisico è fondamentale. Infatti l'empatia dei terapisti diventa veramente il cardine della medicina, forse. Di tutti, di tutta la branca della medicina, penso. Beh, sicuramente è un'ottima equip molto, molto completa, appunto. Che servizi offrite a 360 gradi? Chi si rivolge a voi? Allora, tendenzialmente si rivolge a noi chi ha problemi, per esempio, a livello posturale, quindi chi ha dolori, chi ha lombalgie, chi ha sciatalgie, chi è stato operato, perché abbiamo avuto molte operazioni, nonostante l'anno, diciamo, nefasto. Quindi abbiamo avuto tanti crociati, abbiamo avuto tante operazioni all'agre numerale, che sarebbe comunque la spalla, e anche molti incidenti, perché c'è anche un aspetto traumatico, quindi che possono essere dalla lesione muscolare ad alcune fratture, insomma. Poi si approcciano anche a determinati professionisti come Eleonora, per invece avere un piano nutrizionale, che è completamente diverso, ma si abbina molto bene al nostro servizio. E invece Giulia De Pilla tratta proprio quelli che finiscono questo ciclo, e aiuta a completare questo percorso, insomma, che iniziano da noi, e che finiscono molto spesso. Esatto, beh, sì, appunto, è una terapia completa. Mediamente quanto può durare una terapia? Varia molto anche in base alla patologia, alla tipologia di trauma, se c'è un trauma, quindi è difficile definire, io lo dico spesso ai pazienti, non è semplice avere la sicurezza di quanto può durare un percorso di abitativo. Uno deve essere onesto col paziente e dire che si può dare un range, per esempio comunque un crociato almeno due mesi, due mesi e mezzo dentro lo studio lo deve fare. Quindi questo è un esempio di un crociato, però può essere invece una lesione muscolare, può variare intorno alle due o tre settimane. Certo, quindi sessioni di più giorni, più volte a settimana. Sì, minimo due o tre volte a settimana, se per esempio c'è stato un trauma. Però invece quando una persona ha bisogno anche di un trattamento osteopatico, comunque manuale, anche una volta a settimana è sufficiente. È un percorso che magari protrai per più tempo e riesci a gestirlo bene. Assolutamente sì, quindi chiaramente più volte al mese o comunque periodicamente. Tu hai preso appunto in gestione a febbraio 2020, praticamente prima della pandemia. Si parla di lockdown, si è sempre parlato di lockdown e di smart working soprattutto. Quali sono i rischi posturali dello smart working? Beh, in effetti lo smart working ha avuto delle problematiche, ha avuto delle conseguenze. Per esempio quando abbiamo riaperto a maggio abbiamo avuto una grande affluenza di pazienti perché venivano da un lavoro otto ore sul computer a casa con scrivania non adatte, sedie non adatte, posture sbagliate. Molti per esempio facevano smart working col tavolo della cucina, è una cosa sbagliatissima. E un altro tipo di episodio che è successo è che molti facevano esercizi dentro casa. Quindi da soli, guardando video, provando da soli e molto spesso se non si è accompagnati da un professionista c'è il rischio e noi a maggio abbiamo avuto la riprova che i pazienti hanno avuto bisogno di noi perché lo smart working non è pericoloso, non bisogna pensare che sia pericoloso. Però il paziente non è ignaro di alcune posizioni, alcune norme che possono essere fondamentali per andare a prevenire qualche dolore. Quali sono queste accortezze da fare? Per esempio la posizione che io adesso sto mantenendo non è correttissima. Io dovrei comunque ruotare il corpo perché la rotazione del tronco molto spesso è sbagliata. Lo schermo dovrebbe essere di fronte, la scrivania non dovrebbe essere né troppo bassa né troppo alta e la sedia dovrebbe essere una seduta comoda, soprattutto chi sta otto ore. Molto spesso ci usa anche un rialzo per i piedi perché questo tende ad alleviare la zona lombare e posso dire che se uno ha delle accortezze evita certi problemi, questo è importante. Esatto. Ogni quanto bisognerebbe alzarsi anche dalla sedia? Io penso che qualsiasi tipo di lavoro avrebbe bisogno di almeno ogni due o tre ore una pausa e lo smart working soprattutto. Quindi chi ha la possibilità ogni due o tre ore di alzarsi e anche fare un caffè o un tè e prendersi una pausa, questo anche a livello psicofisico perché non dimentichiamo questo aspetto. Sì, sì, perché comunque lavorando in smart working il lavoro è entrato dentro casa e non si finiva appunto alle 5 o alle 18 ma poi si protraevano in questo. Immagino che uscirai tardissimo stasera quindi stai attento a questa posizione. Sì, sì, infatti mi sto mettendo seduta in modo appropriato. Allora Andrea voglio ringraziarti innanzitutto per essere stato in nostra compagnia. Avete qualche progetto futuro? Beh, vogliamo sicuramente ampliarci perché l'idea è quella di ampliarci non tanto come spazi quanto equip, quindi vorremmo mettere all'interno altre figure. Però questo richiede tempo e sacrificio ma quello sicuramente ci sarà. Assolutamente sì, concordo in pieno. E Andrea sicuramente ricordo anche i tuoi contatti, il numero di telefono dello studio 06323 0138 e lo studio si trova in via Donatello 75 a Roma in zona Flaminio e poi tutte le pagine social Physioclinic Roma e Instagram per le fotografie Physioclinic Roma. Mi raccomando perché Physioclinic si scrive con P-H-Y iniziale quindi Physioclinic e infine il sito web per qualsiasi informazione potete consultare il Physioclinic Roma.it Andrea ti ringrazio ancora una volta e ti auguro un buon proseguimento. Buona giornata. Buona giornata.